Un piccolo rappresentante cilentano accanto alla regina d'Inghilterra. Si chiama Robert Granito Pignatelli Bruce ed è un ragazzo scozzese di 12 anni, nipote del principe e della principessa di Belmonte che ha avuto l'onore di essere scelto dalla regina Elisabetta II come suo paggetto nell'importante e storica cerimonia che apre annualmente la nuova sessione dei lavori del Parlamento Britannico in osservanza di un antico e consolidato cerimoniale. L'evento si è svolto lo scorso lunedì 14 ottobre a Londra e Robert sin dalle 9 di mattino si è recato a Buckingham Palace con altri tre ragazzi della sua stessa età, ha indossato l'abito della cerimonia ed è stato trasferito presso la Camera dei Lord prendendo parte al corteo con la regina, accompagnata dall'erede al trono Carlo con la consorte Camilla, le guardie e i funzionari in uniforme storiche. Il giovane ha assistito la regina nel corso di tutta la cerimonia reggendo il suo pesante mantello all'ingresso nella Camera dei Lord e rimanendo al suo fianco fino al termine della manifestazione. Il giovane paggetto è poi ritornato a Buckingham Palace partecipando all'aperitivo con la regina che ha espresso parole di vivo apprezzamento per il suo comportamento. Robert che si definisce anche cilentano trascorre ogni anno le vacanze estive a Castellabate presso Punta Licosa, ospite dei nonni. Gioca spesso a calcio con i ragazzi della piccola comunità licosana ed è integrato benissimo nella nostra comunità. Parla l'italiano ed è stato anche alla scuola a San Marco di Castellabate, ama il mare, la cucina cilentana e in particolare l'italianità.